Siamo orgogliosi di voi! Così ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo questa mattina a Palazzo Nodari dove ha ricevuto il granzette calcio a 5 femminile che ha approdato alla Serie A. È stato il giusto completamento, ha proseguito il sindaco, di un lungo percorso durato anni di programmazione, progettazione e impegno e adesso finalmente è arrivato il risultato che tutti si aspettavano e che voi avete meritato. Sono particolarmente contento e a un'ulteriore testimonianza che il movimento sportivo cittadino è in grado di raggiungere risultati di assoluto rilievo. Siete un bellissimo esempio che anche partendo da piccole realtà si può arrivare in alto. Ciò che vi ha sempre contraddistinto è l'entusiasmo e l'orgoglio della vostra storia, un messaggio da estendere a 360 gradi. Sono certo che farete un lavoro straordinario! La squadra, presieduta da Alfredo Verza, era presente con il direttore sportivo Silvia Dallara, l'allenatore Chiara Bassi, il vice Francesca Vallin e le atlete Sara Sinigaglia, Rossana Omietti, Sara Iturriaga. Soddisfazione anche dall'assessore allo sport Erika Alberghini. Esprimete grande forza e questa vostra forza, unita alla bravura tecnica e alla capacità atletica vi ha permesso di raggiungere questo straordinario risultato. Sono felice sia come assessore allo sport che come assessore alle pari opportunità. Un ringraziamento a voi e a chi vi sostiene negli impegno sportivo che state portando avanti. Un impegno di fatica e allenamento che ha portato le atlete a questo importante traguardo. Per noi, ha detto Bassi, è motivo di orgoglio essere qui e portare in giro per l'Italia il nome di Rovigo. Non è stato facile ma fiducia e coraggio ci hanno sempre accompagnati. Nel corso dell'incontro Dall'Ara ha annunciato che a settembre partiranno con un importante progetto, un settore giovanile di calcio a 5. Al termine, foto ricordo con la maglia della squadra.